se succede qualcosa siamo qua in diretta dal campo nomadi se la gente ne parla in questo reticolo di vie considerato uno dei punti più a rischio di torino e vuole saperne di più noi siamo lì per parlare di carcere dove accadono le notizie c'è studio aperto live da martedì 10 aprile alle 23 su italia 1 fino a 4.000 euro sì e domani saremo i primi continuano gli eco vantaggi peugeot perché è un usato euro 0 o euro 1 fino a 4.000 euro inclusi gli incentivi statali e in più fino a tre anni di bollo gratis eco vantaggi su peugeot 107 207 e 307 in oltre 0 anticipo 0 maxi rata finale e prima rata a 6 mesi e allora tutti in peugeot fino a sabato 31 marzo abbiamo preso tutto ma non è che in mezzo all'oceano naufraghiamo ragazzi come mi chiamo io robinson crusoe appunto con me non si naufraga oh ma se restassimo a casa svolta la serata con il fantastico polla la diavola di quattro salti in padella ammazza o siete peggio dei cannibali quattro salti in padella findus cambia la solita storia signori per me è una grande gioia assumere la presidenza di questa azienda sin da bambino ho sognato di diventare presidente di alpi tour la più grande fabbrica di biscotti d'europa presidente veramente noi facciamo vacanze vacanze? 2 milioni di viaggiatori 600 destinazioni nel mondo alpi tour i numeri 1 delle vacanze pazzesco è bello essere innamorati non ti sei mai sentito così libero ecco la notizia che aspettavi vuoi sempre il bene per te e per i tuoi occhi da 150 anni salmo iraghi e vegano ti offre le soluzioni per vederti proprio come desideri in tutta italia salmo iraghi e vegano conoscitori di squarti fino al 15 aprile un occhiare completo a 79 euro happy spritzi happy aperol giorno dopo giorno con continua innovazione per la sicurezza e per l'ambiente Michelin ci aiuta a disegnare la nostra mobilità di domani Michelin il modo migliore di avanzare che prendete? eh due calici di quelli predibato né fare che dal primaveri il malto trae il suo sapore pieno ancor più perfetta che maraviglia con questo futuro peroni dal 1946 semplicemente perfetta nulla poteva salvare la foresta dal fuoco tranne un prodigio e tutti ritrovarono la felicità c'è un regalo che fa felice tutti gli uomini con Mediaset Frame tutto il calcio è gratis scegli un decoder con tessera inclusa il meglio della serie A e B più tutta la Champions League sono gratis fino al 30 giugno Mediaset Premium il calcio è in regalo scusi capo ecvi il provino per colorado? no è la fila per le adozioni a distanza e poi a te chi ti adotta? non ti adotta manco gristichi ma io non voglio essere adottato io voglio fare conduzione di programma arrivano tutti qua se si danno fuoco il kerosene ce lo metto io ricordati di cancellare le tracce chi vuoi che conduca il nuovo colorado con Rossella Brescia a parte te telefona costa solo un milione di dollari grazie a tutti grazie a tutti Sai quante cose puoi avere ogni giorno per un euro? Puoi avere news 24 ore su 24 Tanto divertimento per i più piccoli Avventura e documentari Ben sette canali di grande sport Sette film diversi ogni sera tra cui scegliere Oggi per meno di un euro al giorno Puoi avere tutto lo sport o il grande Cinema Sky Chiama subito 199-100-900 Ralf, I'm home Come on Ralph, let's go out Come on baby Francia, ma l'ha morbidente, l'hai messo? Un giorno la Fatina Aridarella È normale sentirci una grande famiglia? Stava piantando così tanto, ma così tanto Non c'è tanto niente qua Un giorno la Fatina Aridarella Con you and Vodafone parli a 7 centesimi al minuto per sempre Con tutti i numeri Vodafone E a un centesimo con il tuo numero preferito E senza costi di ricarica Vodafone Vodafone Life is Ciao Hai capito? Non solo ti ammali Ma poi l'assicurazione vuole mille documenti per giustificare le spese Ecco qua ci sono tutti i documenti ridati mi so Ma oggi c'è Sara Medical Non devi più te ne riconti Perché se ti operi Sara Medical ti rimborsa senza giustificare le spese Ho capito, ho capito Mi spezzo una gamba, mi operano e voi mi rimborsate E se mi spezzo il cuore? Muori, se ti spezzi il cuore Fatti i fatti tuoi Finalmente il controllo totale è di serie Scopri la nuova Opel Meriva 1.3 CDTI con ESP Plus di serie da 13.400 euro Solo a marzo Tutto bene? Sì, grazie Cominciamo bene? Sono sicura che proseguirà meglio Signore, si è liberato un posto in prima classe Ok, viaggio comodo e nel lusso O ci provo? Solo tu puoi scegliere quel che è giusto per te Le scelte fatte da Bex l'hanno resa la tedesca numero uno al mondo La vita è quel che scegli Italia 1 Ultimo appuntamento con la gialappa sbende C'ha già i fans che gli si buttano ai piedi Hai finito di brancolare nel buio Pensavo è arrivato la rutina io lì Io con te vorrei subito mettere le mani avanti Il mio nome in codice d'ora in poi sarà Fufu Mai dire martedì Martedì alle 21 su Italia 1 Italia ciao Studio Sport Un appuntamento Samsung Mail & Calli 600 Il mondo in mano Buonasera e benvenuti a Studio Sport Apriamo la nostra edizione con il nuoto Per rendere omaggio a Filippo Magnini Confermatosi questa mattina a Melbourne Campione del mondo dei 100 metri stile libero Anche se in compagnia del canadese Aiden Che ha fatto segnare lo stesso tempo dell'azzurro Al servizio di Stefano Al servizio di Stefano